11 persone sono state arrestate questa notte dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo della Guardia di Finanza in collaborazione con personale dello Scico e dei comandi provinciali di Trapani e Agrigento, nonché del reparto operativo aeronavale, è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo. Con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina gestivano gli sbarchi fantasma a bordo di potenti gommoni, contrabbando di tabacchi lavorati e fittizia in testazione di beni e attività economiche. Tra i soggetti destinatari del provvedimento anche Fadel Monser, un tunisino residente da anni in Italia che sarebbe stato il capo dell'organizzazione che architettava i viaggi tra la Tunisia e Lampedusa. La pianificazione dei viaggi avveniva nel ristorante di Mazzara del Vallo, il Bella Vista sul lungomare Giuseppe Mazzini, posto adesso sotto sequestro. Il provvedimento riguarda cittadini stranieri ma anche sette italiani che gestivano con l'organizzazione il trasporto di sigarette di contrabbando. Ecco l'elenco dei fermati dell'operazione della Guardia di Finanza. Fadel Monser, nato in Tunisia, 38 anni. Fakri Monser, nato in Tunisia, 35 anni. Bessem Elaiba, nato in Tunisia, 34 anni. Moussa Hedili, nato in Tunisia, 26 anni. Nabil Zouai, nato in Tunisia, 55 anni. Filippo Solina, nato a Lampedusa, 51 anni. Salvatore Spalma, nato ad Agrigento, 30 anni. Francesco Sacco, nato a Portempedocle, 53 anni. Antonino Leonardo, 43 anni, nato a Palermo. Giulio Di Maio, 32 anni, nato a Palermo. Vincenzo Corda, 35 anni, nato a Palermo. Pietro Ilardi, nato a Palermo, 44 anni. Due persone sono ancora ricercate. Oltre agli arresti è scattato il sequestro di beni per 3 milioni di euro. Si tratta del ristorante, una casa bunker che si trova a Marsala, e un'azienda agricola, un cantiere nautico, due pescherecci e vari conti correnti. L'organizzazione operava tra il paese nordafricano e le province di Trapani, Agrigento e Palermo. La banda reclutava i profughi e raccoglieva grosse somme di denaro per la traversata fino a 3 mila euro. L'operazione è stata denominata Barba Nera, proprio per la caratteristica fisica di Montser, che porta una folte lunga barba. Secondo i PM, la banda negli ultimi due anni avrebbe gestito decine di traversate verso le coste siciliane e reinvestito i soldi guadagnati in attività economiche intestate a dei prestannome. Montser aveva anche progettato un attentato dinamitardo a una caserma dei carabinieri. Grazie.